star posto duo se difede ma tu faresti la proposta di matrimonio sul red carpet di venezia di la verità già l'ho fatta io la mia scopo però ti raccorsa faccia le mani facciate le mani e mani e mani e mani che non si deve sapere nulla basta che non alzi il medio che meraviglia ragazzi un applauso grazie abbiamo una grafica di cuori sei tutti noi no ci lavoriamo belli che bello possiamo chiedervi almeno come in che situazione come è stata fatta sì senza troppi dettagli troppo intima tranquilli allora come in partenza per l'isola una cosa bellissima viene da piangere che merita e stavamo in salone io dovevo partire la mattina dopo lui la sera eravamo in salone si è inginocchiato e mi ha dato questo libro praticamente va fatto come il film che lui mi ha fatto vedere che io non avevo mai visto le pagine della nostra vita ha scritto tutto il libro giorno per giorno con tutta la nostra storia con tutte le nostre foto alla fine del libro c'era una penna rossa con un filo c'era una foto che io gli avevo fatto su un albero dei desideri dove lui aveva messo questo biglietto che non mi ha mai detto cosa avesse scritto attaccato con la foto c'era mi giro sempre con l'anello e la scatola mi ha detto mi vuoi sposare e devo scrivere con la benna si è proprio un cuore ti dice questo soprannome è come l'orsacchiotto di primo filo e per quel paio belli davvero belli ma vi facciamo i nostri più grandi auguri allora da tutta la famiglia del gf party no manca solo per incorniciare questo amore a me stasera niente partite niente facciamo un bel bebè mi dispiace se il gf nella casa del grande fratello tanto durerà un anno e nasce il primo bambino del grande fratello adorerei partite partite